la presentatrice svedese si è raccontata a ruota libera parlando di che tempo che fa di fazio elitti zetto e del marito alti e bassi con daniele bossari l'avventura a che tempo che fa che dura da quasi un ventennio la vita domestica e la pubblicità della birra peroni che le ha cambiato la vita filippa lagerbach intervistata dal corriere della sera si è raccontata a ruota libera facendo il punto su carriera e privato in italia è sbarcata dalla svezia da giovanissima per via dello spot sull'alcolico che le fece incontrare quello che sarebbe diventato il suo futuro marito non si pente di nulla per me è stato un biglietto da visita oltre che il simbolo della storia con mio marito daniele voleva quella bionda per la vita tra i suoi lavori c'è anche superball programma con fiorello in onda su canale 5 non andò benissimo a proposito della questione spiega che rosario decise per la diretta ma non andò come pensavo per lui è stato un periodo un po sfortunato poi ha trovato la strada giusta è un grande e lo adoro 20 anni andò in onda la prima puntata di che tempo che fa filippa venne aggiunta nel cast un paio di anni dopo e da allora assieme a luciana littizzetto e fabio fazio forma uno dei tri più noti della tv italiana dalla prossima stagione anche lei traslocherà su 9 come è noto il talk non andrà più in onda sulla rai prendo questa situazione come un'opportunità sono contenta di intraprendere una strada nuova con l'altra mia famiglia quella televisiva di fabio e luciana ha spiegato l'agerback che ha aggiunto che seppur con il giornalista e la comica ha un ottimo legame in privato non ci esce quasi mai il programma dura da 20 anni io sono coinvolta da 18 sono maggiorenne noi tre poi ci sosteniamo a vicenda non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme che stiamo assieme